Oh, oh mio Dio No, no Guardalo bene, lo vedi che Garfield però viola? Che cos'è questo? Oh mio Dio È una zebra carinissima No, 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 no Io adoro le zebra, oh mio Dio, oh mio Dio Ma l'hai trovato selvatico? Sì Io lo sto appena sfidando con l'allenatore, oh mio Dio Non mi interessa, è carinissimo Sono bellissimi Sai come si chiamerà se lo catturo? Come? Leoncino Oh mio Dio Facciamo tutto il video qua Non ci muoveremo mai più E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E chi sei giocamare? Roblox Siamo tornati su Pokémon Brick Bronze Esattamente, ho una sorpresa per te Cosa? Allora, dove sei? Dove sei? Qua, 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 qua Accetta? Aspetta Accettami Steph, ecco ti Perché? Perché ho trovato il secondo Oh mio Dio Allora ti do questo che tanto a me fa schifo Vedi, siccome avevo perso la battaglia Non ti do il mio all'undici Ma ne ho trovato un'altra selvatico Quindi te lo do Ed è di livello 8 Ma questo ti fa onore Livello 8 Oh mio Dio, bellissimo Sono troppo felice Sono troppo felice Guarda Sono curioso di vedere cosa c'è adesso Perché in effetti abbiamo recuperato la collana Battuto la prima palestra E adesso non sappiamo cosa c'è in effetti Esatto Magari inizieremo anche a sfidare il team Eclipse Perché in effetti Eh, eh, non lo so Non lo so Secondo me Si arrabbieranno tantissimo Per il fatto che ci siamo ripresi la collana Quindi non manca molto ad incontrarli Ne sono quasi sicura Potrebbe essere vero Guarda questo tizio Mi sta guardando malissimo Mi ha visto in faccia Ha fatto questa smorfia Allora, sai cosa gli devi dire? Ok Me l'ha consigliato il signor maialino Non sono io Perfetto Che quella pettinatura ha smesso di andare di moda negli anni 90 È vero però Esatto Andiamo Andiamo, dai, dai Svergognata Che succede? Sei una svergognata Che succede? Oh mio Dio Ma perché sono così? Io mi vedo normale Non lo so Andiamo Vabbè Cammino così Sarai così per sempre Ma guardami Io sono normalissima Aspetta Che succede? Che succede? Vedi che la strada è bloccata dalle rocce? Ci dirà sicuramente qualcosa Questo tipo con le corne No, cos'è in testa? Scusami Cos'è in testa? Non lo so cos'è in testa Ah, è un boscaiolo Ok Ci sta raccontando la sua vita Sì, da boscaiolo Ci sta insegnando taglio? Ci sta insegnando taglio però Oh mio Dio Grazie Grazie Imparalo Impara taglio Ok, ok Grazie Ma quanto parla signore? Ma mi scusi È perché ti deve raccontare la sua vita difficile da boscaiolo Ascoltami un attimo A chi potremmo insegnare taglio? A qualcuno che non ti piace Perché come mossa non è molto forte E allora devo andare nel box a prendermi qualcuno che non mi piace? No, qualcosina di brutto Non ce l'hai tu? No Io ho quella schifezza che mi hai dato Infatti pensavo a qualcosa del genere Allora vediamo, vediamo, vediamo Li prendo Le l'ho insegnato Anche se di questi nuovi Pokémon sicuramente non ho idea di chi può imparare taglio Pronta? Vai Questa è una mossa di karate Scusami, devo ricliccare Ho devastato l'albero Bravissimo, bravissimo Allora, chi lo potrà imparare? Ma qua c'è quindi invece la strada deve andare Aspetta, io non ho idea di chi la posso imparare Prima di andare nell'erba mettiti un Pokémon che non sia alto livello 16 che altrimenti hai massacri tutto Penso di avere già Shinx, infatti Sì, 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 sì Ok, perfetto Vediamo Perché ho già intenzione di livellarlo, quindi Vediamo cosa si trova in che servette Vediamo qualcosa di diverso Dai PJ PJ Io ho trovato Marip Però lui è nel livello 8, PJ Vieni qua, PJ No, Marip non lo voglio Mi dispiace Io non so bene cosa fanno le abilità di questo Pokémon Però ho un'abilità di elettro che è super efficace E infatti l'ho ucciso Bravo, bravo, bravissimo Scusami PJ Però ho fatto il livello 12 Bravo, bravo Grazie Oh, oh mio Dio No, no Guardalo bene Lo vedi che Garfield però viola? È fantastico È fantastico Oh, ha imparato una nuova mostra il mio Shinx Perfetto Allora Non so che tipo di Pokémon sia, quindi non so cosa è super efficace Ok, credo sia Speriamo, speriamo, speriamo Credo Ho trovato un altro Shinx Ok Inizia a scappare così dai trovi qualche Pokémon un po' più Oh, mamma mia Ho avuto paura Allora Bag Pokéball Tirala Dai che lo prendiamo Dai che facciamo il primo Pokémon di oggi carinissimo 1 2 3 Sì Io continuo a trovare altri Shinx Non vorrei dire Solo Shinx Sì Sì, davvero Continuo a trovare altri Shinx Mi sto arrabbiando Allora Già hai trovato Pikachu Io non l'ho trovato Se mi fai anche questo Io davvero divento arrabbiatissima Te lo dico Qua potrebbe sfociare una guerra civile Ma Non è ancora sfociata solo perché mi hai regalato quel Pokémon carinissimo Guarda Te lo dico Ciccio 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 bolla Perché ciccio bolla? Oh, mi sembra carino Che succede? Dimmi Continuo a trovare Shinx E lui ti vuole Eh sì, probabilmente sono Ti ha scelto Sono esatto Tu continui a scappare da lui No, perché probabilmente il mio Shinx vuole altri amichetti Quindi mi fa trovare Ma io non ci credo che non ho PJ Ma ti sembra? Ma come fai a non avere i Pokémon? Ma non lo so Mi sembra impossibile Come cosa? C'è una vergogna Adesso faccio una cosa Sì Facciamo così Ce ne andiamo Vado proprio un attimino in quest'erba qui sotto Qui sopra, scusami Altrimenti Ma sarà uguale Eh sì, altrimenti no Dai Ho capito che sei disperata Ecco Lascia perdere Tanto o lo ritroverò o prima o poi tornerò indietro da sola Quindi Per ora lasciamo perdere Dai, dai, dai È gelosa di ciccio bolla Anche perché? Perché Ciccio bolla Dov'è? È andato al supermarket Sei una vergogna Dovresti cadere da qui sopra Ma non posso Sono curiosissima di sapere quello che troveremo adesso Quindi sinceramente Preferisco andare avanti E vediamo un po' cosa ci sarà Oh, salve Oh, salve Oh, salve E chi è? È un Lui è importante No, non è vero Possiamo andare Possiamo andare Cioè Quando ci aspetta adesso? Non lo so Vediamo Oh Oh mio Dio Ma che bello questo personaggio Ma è un player? Non credo No Aspetta Chi è questa cosa? Che succede? Oh mio Dio Ma tu chi sei? Dice Mi sembra che ti piace correre, vero? Sì Sì Anche a me Ho corso Wow Per tantissimi numeri 0,240,35,1,0,3,2,5,6 Ok Uh Ci regala delle scarpe da corsa Ma le voglio subito Ah, ok Non hai capito Se premi shift Adesso corriamo Ti prego No, vabbè Guardaci correndo Guardaci che veloci Che brutto che è correndo È bruttissimo È troppo brutto Però è bello correre Finalmente Infatti mi sembrava strano Che non potessimo andare più veloci Ecco Sblocchiamo le cose piano piano Che steppagliuzza Mmm Ci saranno pokemon diversi qua Sì Allora signore Lei vuole combattere con me? Ma no Ma cerca prima i pokemon Signore Io voglio comb- No Oh Oh mio Dio Oh mio Dio Che cos'è questo? Oh mio Dio È una zebra carinissima No, 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 no Io adoro le zebra Oh mio Dio Oh mio Dio Arriva Lo prende Uno Due Tre È andato Ho preso la zebra Bravo, bravo, bravo Allora Il mio Braxton adesso lo farà fuori È bellissimo comunque Zebrina Zebrina Se ne ha vergogna mettere i nomi È una zebrina carina E quindi si chiama zebrina Ah ecco Capisci? Sì, sì Io continuo a cercare pokemon Non mi frega nulla degli allenatori Io il fatto che voglio Un'altra zebrina Allora si trova spesso È una buona cosa Sì, sì, sì Almeno la trovi anche tu finalmente Ma l'hai trovato selvatico? Sì Io lo sto appena sfidando Quell'allenatore È un vintoressa È carinissimo Sono bellissimi Sai come si chiamerà Se lo caturo? Come? Leoncino Beh, siamo nella savanna In effetti ha senso Le zebre Guarda, non vedi che è un Piccolo leone Sì, è un piccolo leoncino E fa un canto fantastico Sei troppo bellino Non ho parole Guarda In una gara Da bellino a bellino Vinci di sicuro bellino Attenzione Parte la Pokéball Uno Due Tre Ok Preso Preso anche il leoncino Bellissimi Ho già fatto delle catture meravigliose Bravissima Allora, sì Assolutamente vi voglio dare il nome Leoncino Allora, sì Oh! Allora, sì Allora, sì Allora, sì Facciamo tutto il video qua Non ci muoveremo mai più Non ci muoveremo più Funfi È troppo bellino come nome Fantastico guardalo Guardalo che bellino Che cosa sarà questo? Ho paura di fargli cose super efficaci Eh Infatti Super efficace ma non l'ho ucciso Aiuto Aiuto Ok Bag Ti prego prendimelo Ti prego voglio Funfi È troppo carino Io ho finito le pokéball comunque in tutto questo Io allora sto avendo dei problemi Tre Sì Perché se uso il mio pokémon C'è il mio pokémon principale Brixton li distrugge Usa Quindi devo usare questi Quick attack Sì All'infinito Devo fare così all'infinito Perché lo voglio Lo voglio assolutamente Funfi mi piace così Però voglio una modifica Funfi Funfi Così Voglio anche l'h Ok bravo Così è più Funfi Sei terribile a rinominare i pokémon Sei davvero terribile Livello 13 Devi continuare per tutta la serie a dare questi nomi terribili Giusto per sapere Questo è Spark come abilità Non lo so Provala Potrebbe paralizzare un nemico Buono Bello Bravo Bravo Allora Preso Ho preso i popotas È fantastico Questo è Carinissimo Carinissimo Lo voglio anche io Quindi adesso lo cerco Fino a quando non trovo anche lui Comunque Io non vorrei dire Ma il pokémon che mi ha dato è davvero fortissimo Vero? Lo sto usando sempre anche io È più forte del mio Shinx Penso sinceramente di cambiarlo a livello di pokémon elettro Perché è davvero Davvero fortissimo Ho trovato un altro fanfi Mancava solo la giraffa nell'elenco Ciao giraffina Allora a me faranno impazzire Perché mi stanno mettendo un pokémon più bello dell'altro Cioè io lo so che lo dico per tutti Ma sono carinissimi Cioè guardateli che belli Soprattutto perché ripeto Non conosco tutti i pokémon delle nuove generazioni Vedere questi è una continua sorpresa È fantastico Il mio problema è che ho finito i soldi e le pokéball Quindi devo per forza smettere i catturati Sto usando una great ball per la giraffina Perché non ho altro Ho finito tutte le pokéball Ho solo queste tre great ball E non le voglio sprecare Come ti sei permessa Ok Come ti sei Sai quanto costa? Costa 600 quella great ball E tu sei uscito E adesso ne devo usare un'altra Guarda Costano parecchio Pareti meglio a restare in questa Perché io sono povero È vero che costano parecchio Confermo Ok Brava Ok Sto avendo problemi A me sto fanfi mi sta facendo un sacco di danno Cioè No ma è fanfi E vabbè perché qui Katak non è una buona mossa Esatto E lo so ma che cavolo devo usare Le altre non fanno danno Giraffina Allora proviamo Giraffa con due F Sì Ok Eh non si sa mai Non si sa mai Non si sa mai Che disimpari a scrivere la cosa Brava Mi hai capito subito Allora io ti abbandono E torno a casa Mi cure i pokéball E mi compro po No ma non ho soldi per le pokéball Devo semplicemente Arrangiarmi in qualche modo Mi sono ricordato Che ne avevamo trovato Ok Il nugget E un consolino Mi sa che c'è scritto Che se lo vendiamo Ci dovrebbe Infatti 5000 Uh ma me lo vendo subito Aspetta aspetta Bam Eh si 5000 mi fanno come Così mi faccio la scorta di pokéball Assolutamente Esatto Allora voglio 10 pokéball normali Perché fra un po' inizieranno A non andare più bene Perché I pokéball diventeranno troppo forti Per Per riuscire a prenderle Esatto esatto E visto che ho sprecato due megaball Due greatball Me ne compro altre tre Ok Bravo bravo Sì 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 Sono d'accordo Allora posso tornare a catturare tutti i pokéball lì Che Ne dovremmo andare avanti in realtà Sì Però Ah no giusto Devo cambiare la squadra Devo cambiare la squadra Torno subito Anch'io la sto cambiando Chi stai decidendo di tenere alla fine? Sto pensando Non sei indecisa? Aiutami Aiutami Ok Aiutami Ok Ma qua ci fa vedere che tipo i pokéball sono? Sì Ce lo fa vedere esatto La girafina Ok La girafina è normale Come hai fatto? Sammary? Sì Ok È normale e psycho Ok L'elefantino è ground Quindi terra Interessante Un terra lo voglio Io ho l'ipopotas che è terra E sinceramente sto pensando di tenerlo nella squadra Perché è davvero carinissima Facciamo così Come pokemon di elettricità voglio soltanto Cicalicalì Sì esatto Ok Bravo Sì bravo E questo mi piace La girafina la voglio in squadra Quindi girafina al posto di Eevee Che Eevee a me non sta piacendo Non mi piacciono le abilità che ha Quindi sinceramente per ora la lascio fuori dalla squadra Allora io una scelta difficilissima Ok Da fare Voglio un pokemon di terra E di terra ci sono i popotas e fanfi Che sono uno più bello dell'altro Eh Però penso di scegliere i popotas Perché mi sembra Mi sembra che abbia buone mosse Anzi anche lui non è male Indecisa poverina Dai popotas Dai popotas Tanto ascolta Poi c'è lì i pokemon Quando voglio li cambio Eevee lo metto anch'io nel box per ora Preferisco magari aspettare a quando si evolve Perché al momento ha mosse davvero terribili Io Nonostante sia il mio pokemon preferito Però mi Cioè capito Le mosse non mi piacciono Non mi sta Servendo molto in battaglia Però A livello di elettro Tengo quello che mi hai regalato Tu al posto di Shinx Preferisco tenerne No infatti Anche io ho messo quello Perché è fortissimo È forte È davvero davvero forte Si, si, si È davvero 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 Non so dove stiamo andando È un posto strano, te lo dico Allora, guarda Passiamo sotto al ponte che abbiamo visto Ok E si vede un edificio Adesso ci disturberanno i Pokémon Ti prego dimmi che ho qualcosa per curare i Pokémon Perché sono messa malissimo Sono davvero messa male E non posso fare neanche l'allenatore che c'è lì sopra il Pokémon Da quanto... Eh, il Pokémon, il ponte, scusami Da quanto sono messa male No, infatti nel caso Se non c'è qua una cosa per curarci Dobbiamo tornare indietro Non sarebbe l'ideale Aspetta Ok Ok, è il nostro rivale No, ti prego Non dirmi che mi devi sfidare Non dirmi che... Sì, sì, sì Ci sta sfidando Ce li curi i Pokémon Ce li curi i Pokémon, vero? Io non ho Pokémon Cioè, non... Avevo ragione che sarei dovuta tornare indietro Questo maledetto si è portato i V al 15 E non c'è ancora tipo... Vabbè Io non lo posso sfidare No, ma finisco anche io In ospedale Non posso fare nulla, sinceramente Non posso fare nulla Ma dai, ma è sleale però la sua mossa Cioè, dopo una serie di allenatori almeno dovresti darci la possibilità di curare i Pokémon Vedi che è sleale All'inizio ci ha trattato bene E' regalato le Pokémon E poi PAM! Esatto Ti fa le pugnalate alle spalle Insomma Vinta di essere carino, simpatico e gentile Io non so come fare Sono disperata Non ho Pokémon Non ho totalmente Pokémon Aspetta che ti faccia schiattare Non ho Pokémon Non so che altro dirti Mi schiaccio Che che faccio? Io ce la faccio Perché chi lava Avendo usato molto scogliatolino È ancora abbastanza alto No, io sinceramente adesso Mi aspettavo di andare in una città A poterli curare Non mi aspettavo che ci fosse ancora anche lui da Capito da sconfiggere Vuol dire che aveva ammazzaccato la strada Quindi adesso che torneremo indietro a curarci Mi sa che andiamo dal ponte Ed esploriamo quella zona Esatto, esatto Vero, perché voglio fare tutto, tutto, tutto Non voglio lasciare nulla indietro E vuol dire che da questa parte si va avanti Perché se ci ha bloccato lui Vuol dire che questa era la zona giusta Esatto, esatto Ho ammazzato anche il suo secondo Tu hai finito? Io sì, sì, ho finito Ti torno da casa Non avevo Pokémon Quindi mi tocca Mi tocca totalmente perdere Un banner B di livello 2 Mi farà vincere Certo A Eevee Poi la Zebrina E poi Nidoran Quindi non è niente di esagerato Non è tantissimo E lo so, ma ripeto Avevo i Pokémon esausti Quindi non Ah, lo devo pure pagare Quanto? Disgraziato 288 Guarda, te li farò sudare col sangue Quei soldi E me li dovrei rendere tutti Disgraziato Io, signor Maielino Tu ancora non l'hai capito Guarda È stato solo un inconveniente Mi è rimasto chi lava A 6 di vita Oh no Eh sì 600 ti paga quando lo batti Ok Li accetto volentieri Sei stato molto gentile Stiamo andando a Brimber City Ok Allora, cosa succede dopo che lo batti? Possiamo andare da qualche parte oppure no? A Brimber City Ok, quindi Ok Ti ha proprio bloccato prima di arrivare alla città Ok ragazzi Ci fermiamo così Prima di entrare nel gate E vedere la nuova città Ce la lasciamo come cosa per il prossimo episodio Sorpresa per il prossimo episodio Ovviamente Entriamo lì Andiamo un attimino nell'ospedale Per sicurezza E tutte le cose Visitiamo un attimino la città Poi torniamo indietro E andiamo a visitare il ponte Dopodiché Vediamo dalla città Da dove dobbiamo andare Se c'è un'altra palestra Cosa c'è da fare Insomma Decidiamo così In ogni caso Sono felicissimo Oggi un sacco di Pokémon Li abbiamo pure allenati un sacco È andata bene Sono soddisfattissimo Io un po' meno Io un po' meno Io e il signor Maialino Non accettiamo la sconfitta Non l'hai digerito questa sconfitta No Assolutamente è stato molto sleale Vabbè Ti puoi allenare tra un video e l'altro Per diventare ancora più forte E battere chiunque Io spacco la faccia a tutti No Questo è un affronto Che io non posso digerire in nessun modo Lo so Quindi sì Mi allenerò tantissimo E distruggerò tutti quanti Perché non dovrà mai più succedere Che mi sconfiggano Così pugnalandomi alle spalle Va bene Beh ragazzi Il video è esciuto così Se ci lasciateci un like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao